Adesso ti sei messo in sicurezza, puoi togliere la maniglia e metterla qua, giusto? Adesso devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati. Adesso devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati. Adesso devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati. Adesso devi fare dei preparati, quindi devi fare dei preparati. Mettilo in direzione che tu riesci a agganciare il preparato. Adesso prepara il tortino, ti dici un attimo qua e lo metti qui. Non è detto che ci sia il fondo, non è detto che ci sia, se è frazionata non ce l'hai. Guarda la direzione, guarda la direzione, e poi dove lo metti? Falo passare dentro qua. Trottance la U, trottance la U. Fai un rodino, va bene anche quello. Se no, se non va bene quello, perché pensi che vada dentro non ti fidi, puoi fare un cappuccino. Anche il te, anche il te è caldo. Poi? Io sono un gioco te, giusto? Ma non in quota, se no ci metti più tempo. Togli quello e metti il bilancino. Ok? Buono. Via la mano, tirati su un po' ancora, arrivare almeno qua col tuo troll. Buon, 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 va bene. Adesso buttami più in alto, il più possibile. Vai su ancora col troll, vai più su col troll. Allora, se metti il piede nel pedale, fai contrasto e non fai un cazzo. Non usa il piede al pedale, tu devi andare giù e devi spingere. Se tu fai contrasto col piede sul pedale, non riesci a far forza. Hai fatto poco, puoi fare ancora di più. Alza, alza fino alla fine. Su, su, buona. Così puoi liberargli il troll. Guarda qua, dai, togli questo. Il tuo, devi togliermi dal troll, se no resti ingambigliato. Buon, via. Era meglio mettere un mosco. Ok, ci sei? Ok. Secondo me... La corda che scende, ostia. Però tu... Secondo me, devi togli questa maniglia qua, che ti non per cazzo, guarda cosa hai fatto. Hai ingambigliato il po'. Poi perché hai usato la sua maniglia? È giusto. Ma perché non nel moschettone? Allora, così. No. Cosa sta? Quella? Non è bene il moschettone. Tu devi fare quella? Bravo. Monta. Vai, Simo! Vedi che già a spiegare, dove siamo capiti cosa è fatto. Eeeh... Cito te! Eeeh... Tira dentro, tira dentro! Quattro al minuto c'è 40 che... Rinvia... Rinvia... Vai! Io l'ho spiegato due volte a voce in miniera, eh? Ok, buono. Adesso... Adesso devo scusarmi io. Stiamo praticando... No, adesso metti il piede sul pedale. Sì, il tuo. Devi salire tu e far scendere messo un bicicletto. Ok. Quindi se non vuoi usare il tuo, usa questo. Togli l'encre. Che passa mia delle... Che passa mia! Che passa mia! Vai! Fanno passare dentro! Vai che passa! Tira! Vedi se non... Se non... Nel FC... Prima andrà sotto a caldo... E' becchiai sedi... E' becchiai sedi... Su! Sì, ma ti allongi! Zitto! Zitto! Zitto le! Zitto le! Zitto le! Togli la maniglia! Togli la maniglia! Ok. Togli questo. Questo lo devi dispare perché mi piace la corda, eh? Se hai il tuo cordino lo butti giù di là... E' più buona. Eh... Presto la togli. Buono. Quella lì la lascia andare giù. Questa la butti di là che non ti nonpi i coglioni. E' dare in compreso... Compreso. Dai smonti la cosa... No! No! Occhio! Occhio! Stai attento, stai attento lì! Inza qua! No! Occhio! Zitto! No! Adesso questo braccio non lo lasci... C'è vero? Cosa dici te? Questo lo tieni sotto qua... E mi tieni su... Vai! Vai! 5 minuti e 55! Zitto! 5 minuti e 55! 5 minuti e 55!